Il gol ha sbloccato la partita, secondo me, anche in un momento a noi favorevole, nel senso che avevamo preso un po' più di campo, avevamo avanzato un po' il baricentro e la stanchezza, a mio parere, ha inciso. Non a caso avevo pensato di modificare un po' quello che era stato l'assetto delle partite precedenti con una disposizione nuova, pensando di fare il bene, di far correre meno i calciatori e magari nella ripresa provare, in base anche al risultato, di tornare a quelle che sono le nostre conoscenze, pur se da poco tempo, ma comunque rispetto alla disposizione del primo tempo sicuramente abbiamo una marcia in più. E quindi questo credo che sia stata la svolta, però tutto sommato il Teramo è una squadra forte, quindi di questo io sono contento della prestazione e della risposta che i calciatori hanno dato. Non può essere un episodio ad abbattere una squadra che ha questo carattere, di venire a giocare a Teramo a viso aperto. Abbiamo creato diverse situazioni che avremmo potuto concludere in maniera diversa. Ribadisco, un nostro aspetto che in questo momento ancora dobbiamo mettere a posto è la fase realizzativa, che non abbiamo ancora toccato con gli attaccanti, con i centrocampisti. E quindi da questo punto di vista c'è ancora molto da fare. Guardiamo avanti. In questo momento la classifica dice che il Teramo è al ridosso della prima, di una squadra anch'essa così forte, come la Ternana. Però credo che le ambizioni di tutte e tre le squadre si possano accomunare, credo che siano le stesse. Magari uno parte con i favori del pronostico, come la Ternana rispetto alle altre due, ma in realtà sia l'Avellino ma lo stesso Catane, che forse è un po' in ritardo, sono squadre che lotteranno secondo me fino in fondo. E lo stesso Teramo, che è una delle squadre che a mio parere fino ad oggi ha espresso anche una sintonia di gioco molto più collaudata rispetto alle altre.